Parliamo ragazzi di vendere informazioni online. Voi potete fare dei numeri anche molto interessanti. Il marketing non cambia il mercato, gli va dietro. Dopo un po' le persone smettono di consumare. Ma ho comprato un corsetto, ho letto un libro. Oh! È il consulente marketing più pagato al mondo. Ok, benvenuti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Una giornata con lui costa 20.000 euro. Riconosciuto come il creatore di milionari. Allora, ascolta attentamente il papi. Ha già rivoluzionato le sorti di decine di migliaia di imprenditori. È tra gli esperti più preparati al mondo in campo marketing, business e make money. Abbiamo creato un qualcosa di mai visto prima. Con il suo approccio brutalmente diretto e pratico, è il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. Imparare veramente come si fanno più soldi, veramente come si è liberi. Imprenditore, autore e formatore acclamato. Signori, lui è Big Luca. Eccoci qua, signori. Sono le 9.40 di mattina a Dubai. Leggero ritardo rispetto al solito. Sto che ero a casa a fare le mie cosine. Andiamo a fare un girettino per Dubai, che ieri c'è stato un assoluto nubifragio. Oggi devo dire che sì, ci sono le nuvole, ma è abbastanza carino il tempo. Ieri si è allagato, abbiamo avuto piogge torrenziali con strade rotte, qualcosa del genere. Quindi ci facciamo la nostra camminatina mattutina col bigone. Io sono Big Luca, signori, buongiorno. Capoguru dubaino, multimilionario, formatore di livello internazionale, grande camminatore per Dubai, perché i veri milionari, signori, milionari multimilionari, no, decamilionari, miliardari, non hanno la macchina, vanno in giro a piedi. Non so se sapete di questo pattern. Comunque, in questo video, che probabilmente intitoleremo le criticità dell'infomarketing, notizie un miliardo dopo, dopo aver generato un miliardo, mi parlo delle criticità dei pattern che ho visto, che ho osservato e che osservo tutti i giorni, negli infobusiness e nell'infomarketing, in qualche modo nella vendita di informazioni. Ora, so già che il titolo, qualunque titolo verrà messo, genererà un po' di scalpore. Dice, ma come un miliardo? Ma come hai guadagnato un miliardo, hai guadagnato 5 miliardi? Non è che li ho guadagnati, ragazzi, però l'impatto che la Big Luca International ha avuto, se io prendo quello che ho generato io, più i soldi che la Big Luca, con vari livelli di impatto, ha aiutato a generare, vi posso assicurare che siamo ben oltre il miliardo, ok? Se poi li mettiamo tutti gli studenti, non so quanto siamo, ormai abbiamo smesso di contare, però in qualche modo vi faccio riflettere. Saranno mille persone che per estensione guadagnano 15 mila euro netti al mese, ragazzi, anche molti di più, ok? Bene, sono 180 milioni all'anno, solo un anno. Se poi ci mettiamo qualche altro studente che con le informazioni fa 1, 2, 3, 5, 10, insomma, credo di non esagerare nel dire che ho consulenziato, abbiamo visto, abbiamo impostato, abbiamo aiutato, abbiamo studiato, più di un miliardo di vendite di infoprodotti, ok? E quindi adesso vi racconto un po' che cosa succede, i pattern che ho notato negli anni, un po' di criticità e un po' di cose. Allora, per prima cosa, una delle cose che dovete sapere degli info business, quindi parlo di business che vendono corsi, coaching, consulenze, videocorsi, bootcamp, mastermind, eventi di formazione, eccetera. In questo video mi focalizzo specialmente sulle informazioni solo online, che poi possono essere integrate con il resto, poi magari lo vedremo. Però parliamo business di coaching online, corsi e consulenza. Allora, la prima cosa che dovete sapere, che dovete capire, è che è un business estremamente volatile. Quindi uno dei problemi che voi avrete, che sicuramente già avete, se fate info business da poco, da un tempo sufficientemente lungo, è l'estrema volatilità e in qualche modo difficoltà di proceduralizzazione e di tenuta in evergreen, diciamo di longevità, dei business, delle informazioni. Questo per alcuni motivi. Cosa vuol dire questa cosa? Che le persone vogliono mediamente contenuti nuovi ogni mese, e che soprattutto per un mercato, per esempio come il mio, è molto 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 facile, molto probabile, che voi dobbiate andare a modificare i vostri front-end, i vostri funnel, in qualche modo, il modo in cui voi acquisite clienti potenziali, li convertite in clienti, li convertite in clienti, molto molto spesso. Quindi una delle criticità nella quale tutti gli info business soffrono a vari livelli. Questo è più vero, a mano a mano, più piccolo è il business, quindi a mano a mano che il business si restringe, il mercato di azione si restringe, più velocemente e repentinamente voi dovete cambiare quello che fate e lo dovete cambiare perché le persone sono sempre le stesse, quindi se le persone sono sempre le stesse, voi non potete vendere alle stesse persone che hanno già comprato la stessa cosa. Ok? Ve lo è sdraiato su una panchina, sta male, dorme, dorme. Ok? Quindi più è grande il mercato, più voi potete acquisire clienti potenziali e clienti nuovi ogni giorno che non hanno preventivamente comprato o anche magari visualizzate i vostri materiali gratuiti, quindi che non sono nel vostro mondo, ok? e gli potete vendere sempre lo stesso corso. Quindi ci sono industrie dove ancora adesso o che poi è il motivo per cui le persone durano anni con gli stessi corsi nel mercato americano perché in qualche modo essendo molto esteso e molto vasto tu hai il tuo corso, magari un paio di corsi, vi ricordate Samovens, eccetera, continui ad acquisire clienti nuovi, li educhi e gli vendi il tuo percorso, i tuoi due percorsi semplice, ok? Hai il tuo fan, il tuo paio di fan, eccetera. Ancora adesso in America ragazzi la formazione è per moltissimi versi monoprodotto o quasi pochi prodotti, c'è il formatore di turno, anche bravo, ha qualche assistente, qualche assistente virtuale, non esistono le aziende di formazione per la maggior parte per come le intendete voi e questo è uno dei problemi che avete quando fate America su Italia. In America voi potete fare dei numeri anche molto interessanti, 5, 10 milioni anche di più all'anno solo con gli infoprodotti online essendo voi il guru facendo praticamente tutto voi e delegando qualche tasca degli assistenti virtuali, ok? Quindi è molto comune. Il mercato di lingua italiana no perché è molto più piccolo e quindi diventa subito molto più ostico quindi anche in America monoprodotto due prodotti, tre prodotti, due prodotti a mastermind o cose del genere finché il mercato è largo voi acquisite i vostri clienti ok? Poi li fate entrare i vostri lead poi li fate entrare e diventano clienti. Più il mercato è piccolo più chiaramente dopo un po' chiaramente è un'esagerazione parlo per stereotipi però è anche vero i clienti sono sempre gli stessi o quantomeno siete già conosciuti questo è un vantaggio perché avete se lavorate bene più potenza di vendita ma è anche uno svantaggio perché perché dovete continuare a costruire prodotti nuovi perché perché se il vostro mercato sono 100 persone e a 100 persone gli avete già venduto il prodotto A se non create il prodotto B non vendete questa è purtroppo una delle criticità ve la dico già degli infoprodotti cioè dopo che sono stati consumati non sono più buoni e non li ricomprano che è il motivo per cui non si può crescere in modo esponenziale cosa che invece si può fare con prodotti di consumo non durevoli cioè il corso mi compri un corso lo guardi lo usi piace lo applichi poi il corso lo esaurisci o credi di averlo esaurito cioè praticamente mi dice ok so tutto grazie fine non è che compri un altro corso mettiamo uno dei nostri corsi celebri online marketing per mentecatti quello che diede ai natali all'industria il mitologico mentecatti che adesso è nella sua versione 3 se tu compri online marketing per mentecatti 3.0 però non è che lo compri di nuovo dopo che ti è piaciuto se invece tu vai in gelateria prendi un cono ti piace magari il giorno dopo te ne prendi un altro ed è sempre la stessa erogazione dello stesso prodotto chiaro? questa è una fortissima criticità che si unisce alla prima le persone criticità 1 pattern numero 1 quello che dovrete fare con le informazioni ricordatevi io parlo sempre per il massimo profitto quindi se volete scalare bene adesso parleremo anche di questo dovrete purtroppo lanciare e proporre al vostro mercato più questo mercato è piccolo e più aumenterà la frequenza che può arrivare ad essere insostenibile di produzione di nuovi contenuti di produzione di nuovi corsi quantomeno di modifica di quello che avete e non solo di modifica percettiva perché a un certo punto devono proprio essere cose nuove magari non per forza con informazioni del tutto nuove che è un'altra cosa che dopo un po' del tutto nuove sarà un po' improbabile ma quantomeno rinarrate ridette rigirate in un altro ambiente prese da un'altra angolazione ma sono comunque effettivamente contenuti nuovi quindi non sempre gli stessi video promossi da una sales page diversa ma a sales page diversa i video effettivamente diversi ok questo è quello che le persone vogliono è un business ad alto livello di cioè le persone sono molto uterine e vanno con le emozioni perché le informazioni non si toccano quindi ok so tutto dammene altre la frase è illogica però il mercato vuole questo le persone hanno un'enorme tendenza soprattutto nel mio mercato a sentirsi subito esperte quindi non so ti fanno un corso online marketing per mentecatti che solo quello è 53 ore lo vedono una volta dicono ah ok bellissimo grande ok so tutto un altro voglio roba più avanzata ma tu sei sicuro di aver applicato e capito tutto quello che c'è tra l'altro su mentecatti adesso le persone si rendono conto di che figata fosse online marketing per mentecatti 1.0 che è un corso ancora validissimo ci sono delle regole alcuni me la hanno detto a big io sono tornato ad applicare mentecatti 1 fantastico perché sono i nostri corsi sono un po' meno banali di quello che le persone pensano no poi noi l'abbiamo aggiornato dove c'erano effettivamente cose da espandere da dire alcune cose sono cambiate eccetera però in buona sostanza ragazzi mentecatti quello è quindi criticità 1 le persone vogliono nuovi corsi e non uscirete da questa cosa non provate a fare altre cose sappiate che dovrete creare nuovi prodotti continuamente ora abbiamo già detto che il grado di frequenza di intensità è determinato dall'ampiezza e dalla facilità del mercato ci sono ancora mercati io ho studenti che vendono informazioni a mercati per esempio digiuni di tecniche di marketing quindi tra virgolette è molto più facile monetizzarle un mercato come il mio la gente è molto più smaliziata quindi un webinar a pressione ha un altro effetto sul nostro pubblico un timer ha un altro effetto un email con un'urgenza ha un altro effetto persone molte volte dicono che voi lo facciate guardano come noi vendiamo come noi lanciamo per capire come noi li vendiamo ma si sa che c'è questo rapporto non che sia sbagliato anzi compro una posta però in qualche modo c'è già una mentalità del ok mi stanno vendendo ci sono mercati dove ragazzi se gli fate un webinar anche che non è live gli dite che live non se ne accorgeranno mai perché non stanno cercando quello non è neanche nel loro retropensiero vantaggi e svantaggi oltretutto secondo ora stiamo parlando ecco del fatto che per la natura stessa delle informazioni non potrete né creare un brand né avere un'azienda molto grande quantomeno è molto difficile perché perché siccome le persone entrano consumano i prodotti e poi non ce ne sono più dopo un po' il cliente lo perdete o andrà da qualcun altro e andrà da qualcun altro a perché vuole cose nuove voi non gliele date e vada un altro questa cosa non la risolvete tutti noi sappiamo che quando una persona diventa cliente studente di Big Luca nel nostro caso è già un po' diverso ma comunque dopo un po' proverà anche giustamente legittimamente corsi di altri formatori poi tornano poi i miei nostri sono più belli o magari no non lo so però uno entra magari con formatore X poi dopo un po' dice aspetta c'è anche il Big ma fa a me prendere anche i suoi percorsi perché mi risultano siano molto validi allora spende un po' con me poi magari c'è una parte specifica magari di quello che vuole fare dove ritiene di dover andare da qualcun altro in quella cosa specifica anche ha ragione assolutamente e quindi curiosano perché vogliono sempre cose nuove anche perché gli servono e non è che le vogliono e basta e quindi torniamo alla criticità di non poter costruire un brand che è la seconda la persona entra nell'universo Big Luca International potete comprare molte cose perché noi offriamo differenti servizi per differenti prezzi per differenti target che danno cose diverse per ottenere differenti risultati invariabilmente dopo un po' potresti aver preso tutto sì puoi continuare a fare le consulenze private con me sì puoi continuare a fare le consulenze con i miei coach dopo che hai visto tutti i corsi sì magari poi ti facciamo il lancio del corso nuovo bello che prendi ma tra virgolette dopo un po' ok quindi non puoi andare avanti a consumare nel nostro caso infatti è utile avere le consulenze però pensate solo un business di corsi se noi avessimo solo un business di corsi dopo che hai preso tutti i corsi cosa fai? come fai a darci altri soldi? e quindi la relazione quantomeno monetaria si stoppa non solo se avete solo un business di corsi ragazzi dopo un po' la relazione monetaria diventa un costo perché? perché se io ti vendo una cosa e tu stai dentro a vita io poi ho i costi di quella roba lì io ti vendo una volta 2000 euro tendenza di qualche anno fa prendevi un po' di corsi lo vendevi a 2000 il traffico costava poco staff ce n'era poco io mi facevo 2000 a botta tu compravi dell'ottima formazione per 2000 euro eri contento ti compravi un sacco di cose le applicavi eccetera contentissimo la gente dice Big US più 2k con te e magari un mese e mezzo dopo erano a 10k al mese quindi investimento recuperato tranquillamente salti alti così testimonianze tutti contenti ma poi se tu stai dentro nella mia piattaforma e io ti devo dare assistenti io chi per me tu sei un costo perché c'è comunque un customer service dedicato c'è un gruppo facebook c'è una piattaforma c'è un gruppo telegram c'è un supporto c'è un quantomeno un problema potenziale no? se tu perdi i dati del login tra due anni qualcuno ti deve rispondere dare tu dici vabbè per 2000 euro Big lo puoi anche fare sì sì certo ma ci sono dei costi che comunque sono ongoing e tu mi hai pagato una volta solo quindi dopo un po' qualunque costo qualunque cosa viene ammortizzata ok? quindi per qualunque cosa produciate dopo un po' le persone smettono di consumare e anche le persone le aziende devono infatti tutte le aziende di formazione hanno differenti pacchetti differenti prodotti perché devi monetizzare i già clienti e i già clienti in media se sono contenti vogliono altri corsi altre cose vogliono essere seguiti in modo più avanzato vogliono essere seguiti per più tempo perché riscontrano valore nell'avere magari un coach che ogni settimana in cui potessi interfacciare no? o con un tutor o dicono big guarda io una volta ogni quattro mesi una volta ogni sei mesi la mezza giornata da te a Dubai a casa tua me la voglio fare per fare una cosa di check per vedere e vogliono queste cose quindi una delle prime cose è questa e infatti voi dovete monetizzare i già clienti è un errore per esempio che fanno le persone inesperte lanciano i nuovi corsi e li danno gratis ai già clienti ragazzi in un business come il nostro dove già voi dovete acquisire sempre nuovi clienti che non abbiano comprato da voi e dopo un po' questa cosa diventa tosta perché diventa costoso e diventa difficile se poi non monetizzate neanche i già clienti che avete continuando a dargli i prodotti e i servizi è un problema va bene fare uno sconto ai già clienti ma non dargli le cose gratis perché così avete il doppio costo e non avete il profitto e siccome voi non potete uscire dal cul de sac del fatto che dovete monetizzare subito il più possibile dare tutti i prodotti e i servizi che avete subito così da guadagnare prima che queste persone vadano inevitabilmente a curiosare da qualche altra parte perché ripeto non possono comprarvi due copie dello stesso corso sì magari lo fanno lo regalano a qualcuno però ci capiamo ragazzi ok dovete assolutamente sbrigarvi ora le persone provano a chiarare questa cosa con una membership ok dico vabbè Big ma c'è il modo io li metto in una membership così almeno mi continuano a pagare e hackerò questo problema del dover continuamente creare roba nuova perché dopo un po' se ne accorgono tutti dicono sì effettivamente cazzo questo è un problema ragazzi voi non potete hackerare una cosa che non può essere hackerata infatti la membership vi dico sempre non funziona perché perché voi non li state non è vero che vi pagano per sempre prima che questa cosa ragazzi spiantiamola con certe stronzate le persone dopo un po' escono dalla membership perché perché sempre la stessa membership che si chiama in modo uguale non riescono a star dietro le informazioni e voi le dovete produrre comunque ogni mese non è che stanno dentro e continuano a pagare vogliono le informazioni prodotte ogni mese non solo quando gliene producete tante se ne vanno perché non riescono a consumarle tutte quindi c'è sempre una produzione di nuovo contenuto vi spiego questa roba ragazzi che vi mettete dentro una cosa e poi avete la recurring revenue perché a un certo punto cosa dicono le persone se non lancio se non propongo nuovi servizi non guadagno al che mi sono rotto creo una cosa dove poi il pagamento è automatico non è automatico il pagamento il pagamento è automatico perché voi avete un automatic bill avete uno stripe che li billa ma loro possono assolutamente rimuovere la carta possono non pagare più e saltare fuori cosa che fanno assolutamente e siccome avete lo stesso problema di prima non riuscite a prendere abbastanza clienti che entrino nella membership da contrastare quelli che escono la tematica e se lo volete fare spendete un sacco di soldi per acquisire i clienti della membership ma c'è la stessa criticità di qualunque altro prodotto non è che se in front end mettete la membership allora lo hackerate perché non potete hackerare il mercato voi dovete fare marketing nel mercato il marketing non cambia il mercato gli va dietro lo monetizza chiaro? non solo ma in questo modo voi non gli prendete più 1200 euro ma provate a prendergli 100 euro al mese qui non è una buona notizia perché magari potevate prendere 1200 subito ma magari con la membership dopo tre mesi si rompono i coglioni dropshipper ok? e quindi non gli avete preso 1200 sono esempi chiaramente ma 300 e se avete perso soldi in front end per acquisirlo per poi provare ad avere la passività che non potete avere col business di informazione siete in realtà quasi in perdita perché se ci togliete i costi aziendali non ci saltate fuori chiaro? ora non sto dicendo io sto parlando di membership mensile low ticket e tutto il business è quello poi si possono avere dei pacchetti che si rinnovano ogni tre mesi c'è il modo di lavorare o in altre nicchie la cosa può funzionare ma nel nostro per esempio mondo non va anche perché ci sono i costi alti che si alzano quindi prima criticità vogliono cose nuove secondo non puoi creare un brand longevo e non puoi creare effettivamente una struttura proceduralizzata perché la gente vuole cose nuove quindi le procedure e l'azienda è in realtà innestata attorno ai prodotti nuovi ai servizi nuovi che vanno proposti anche in modo nuovo e quindi tra gente che smette di consumare gente nuova acquisita per consumare è molto difficile come dire una volta raggiunto il mercato ottenere quello perché sei sempre lì a lavorare per acquisire gente nuova non raggiungi un livello poi tieni quello e poi sali ma devi anche mantenere quello terzo i costi ok quindi le persone allora quando voi vedete gente che guadagna tanto specialmente guadagna tanto da tanto voi dovete sapere che questa persona ha un'attività che ha anche dei costi che ha del personale cioè è un'azienda poi può essere un'azienda più o meno strutturata non ci sono dubbi può essere un'azienda che ha un ufficio fisico che non ce l'ha noi non ce l'abbiamo l'avevamo preso a Dubai a Business Bay un ufficio enorme poi non era per noi la cosa creava stress l'abbiamo eliminato un ufficio a 600 metri a Vision Tower pazzesco però non cambia più o meno staff ma comunque fare i primi 50.000 euro netti al mese potreste farlo ragazzi in un mese potreste già avere un audience pacchettizzate qualcosa fate un lancio dite che c'è porca puttana big mi sono entrati 50k a quel punto è tutto profitto ragazzi perché quanto potete spendere cioè comprate una videocamera gli fate i video un microfono oppure fate i video dentro al computer quindi se avete già il computer gli fate con QuickTime un microfono cioè ci capiamo ragazzi lo annunciate prendete fate una membership al Kajabi non voi che vendete la membership mensile ma avete il costo del sito del videocorso tra virgolette cioè ragazzi si parla del 98% di margine benissimo ma quando andate avanti non è così ok ora se gestiti bene e devono essere gestiti bene le informazioni i business di informazioni perché hanno già tante criticità ripeto irrisolvibili non cercate di risolverle perché non è risolvibile il tema se non lavorate bene cioè se non avete un margine perché non lavorate bene perché appunto poi vedremo magari facciamo anche l'elenco i corsi nuovi li vendete sotto prezzo e non monetizzate i già clienti i corsi ai già clienti gli fate troppo sconto gli offrite troppo per troppo poco quando invece dovreste fare il contrario non convertite abbastanza sui vostri funnel non avete un ecosistema eccetera ecco qui che poi vi saltano i margini bassi però si può arrivare lavorando bene a fare un milione all'anno con 75-80% di margine fattibilissimo 2 milioni 65% di margine 3 milioni noi su 3 milioni avevamo molto più del 50 4 milioni il 50% c'è chi l'ha fatto ok però ragazzi non vi esce per sbaglio lì dovete sapere che cazzo state facendo ma la realtà è che quando andate avanti ragazzi non è che è tutto profitto non sono tutti i soldi ah tu fai business online quindi non hai i costi oh ragazzi ma che cazzo dite dopo un po' dovete avere dello staff fisso dovete avere le persone mi chiedono se io abbia costi fissi big ma tu quindi non hai costi fissi ma tu ti sei bevuto in cervello ma ragazzi ma voi lo sapete che cosa vuol dire avere un business di formazione con migliaia di clienti paganti nuovi che entrano all'anno con decine di migliaia di persone di clienti di studenti sulla piattaforma proprietaria quindi gestita da noi con i programmatori interni che devono risolvere i bug che devono star dietro agli attacchi hacker perché poi noi siamo soggetti purtroppo abbiamo tanta gente che ci vuole bene che perde tempo a tentare di hackerare la nostra perché è difficile ok un customer service 24 ore su 24 con persone in vari fusi per dare assistenza e ausilio e aiuto ai nostri studenti con continue sessioni formative che si svolgono live sulla nostra piattaforma con continue sessioni di consulenza con coaching e consulenze che vanno con nuovi contenuti che vengono immessi e nel mantenere questa cosa ok con continue promozioni per promuovere ovviamente i nostri prodotti e servizi con nuove pagine nuovi lanci nuove promozioni nuove cose questa cosa qui viaggia 24 ore su 24 guardate che c'è uno staff che la fa ok quindi avrete dei costi fissi prima o dopo avrete della gente che lavora in ufficio le prime cose customer service chi riceve le email cioè dopo un po' avete fatto qualche vendita cioè quello che ha perso la password quello che si lamenta quello che vorrà rimborso per esempio quello che invece vuol comprare di più quello che vi fa i complimenti quello che non ha capito quello che ha delle domande è quello che ha dovrete avere customer service e venditori poi dopo un po' vi fate voi le pagine di vendita le pagine non ci state dietro dovrete avere il team di marketing dovrete avere il grafico dovrete avere quello che integra le sales page dovete avere il copywriter e poi uno non vi basta più quindi vi sdoppiate a un certo punto vi ritrovate ragazzi come niente ad avere 20 25 30 persone ad oggi una persona che va bene nel mercato di lingua italiana con le informazioni meno di 10 15 persone ragazzi non le ha stiamo parlando di persone che spingono se poi una persona va di sussistenza residuale minchia sussistenza residuale adesso da domani tutti useranno questo termo vabbè purtroppo ci sono anche questi problemi io devo stare attento a come parlo quindi vanno di sussistenza residuale già mi vedo che qualcuno farà un lancio che si chiama sussistenza residuale ma perché io va bene ok sussistenza residuale che bella industria tra quale siamo aria fritta conferma aria fritta però vendere aria fritta ragazzi è gratificante vendere una cosa che è bellissima ok ok allora ok è diverso avete magari un canale youtube molto seguito instagram fate due cosine vendete i vostri corsi qualche centinaia di euro qualcuno clicca compra va bene però anche lì poi non è che avanti così per se va comunque mantenuta la cosa però è meno onerosa ma se volete cominciare a fare cifre che sono abbastanza serie un milione all'anno due milioni all'anno se poi volete andare oltre 1.5 1.7 1.8 moltissime persone per esempio nelle informazioni non so se lo sapete ma si fermano parliamo ragazzi di vendere informazioni online corsi e consulenza se poi uno mette dentro gli eventi fa altre cose aumenta di molto non è banale comunque ma può aumentare di molto il fatturato di solito il netto non segue di conseguenza anzi si abbassa ok quindi pattern che io vedo per business attenzione di informazioni illegittime se poi voi avete claim illegali rubate i soldi alla gente scappate con la cassa eccetera questa è un'altra cosa io parlo di business di informazioni legittimo dove effettivamente le vostre informazioni sono buone sono impattanti le persone le comprano vi ringraziano cioè una cosa legittima siete voi o chi per voi degli esperti quindi consulenziate a vari livelli persone che imparano e vengono positivamente impattati e imparano le vostre informazioni che sono applicabili ok il pattern che ho visto e ho visto abbiamo visto ripeto veramente tantissime persone il campo delle informazioni che insomma è nato un po' con Big Luca quello profittevole quanto meno quindi insomma è un po' il nostro cavallo di battaglia è molto difficile per le persone passare da 1.5 1.6 1.7 sopra i 2 milioni stabili sappiate che molto poche persone fanno più di 2 milioni di euro stabili non è che non ci sono ci sono perché perché per fare oltre i 2 milioni stabili serve già un team con una certa organizzazione ed è il team che copensa con l'imprenditore con lo stratega del marketing che tutte volte combaciano quali promozioni fare quali lanci fare quali prodotti fare se poi dobbiamo andare sopra i 3 milioni lì dovete avere un'azienda invece organizzata proprio propriamente detta se no non ci arrivate ehi mi raccomando iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing business e profitto parlo stabilmente ok quindi se voi dovete stare dietro personalmente tutti i giorni alle campagne tutti i giorni alle email e se voi non pensate la gente non pensa non arrivate a certi numeri questo non vuol dire ragazzi che poi quando ci arrivate voi potete dormire tutto il giorno e non fare niente dovrete controllare a volte la strategia dipenderà anche da voi però macro poi a livello micro sanno cosa fare o anche a livello macro sanno abbiamo pensato di fare questa campagna e la fanno e soprattutto devono poter eseguire senza passare continuamente da voi che siete il collo di bottiglia poi faranno errori poi io però questo è ragazzi serve staff ci sono costi ok dovrete avere persone brave dovrete avere venditori questa è un'altra cosa le persone partono e danno percentuali per esempio quindi dicono beh io non ho costi fissi big perché ho dato le percentuali quando crescete è un casino ragazzi è il motivo per cui nessuna azienda diciamo grande vi paga in percentuale vi danno lo stipendio poi c'è lo stipendio fisso e poi se proprio producete alla fine dell'anno avete il bonus a un certo punto partite date il 3 di qua il 5 di là il 10 di là all'inizio modello start up ho dato uno il 20 venditori il 10 forse il 15 uno che mi ha detto che mi fa il marketing gli do il 10 è ok e quando cresci cosa fai perché il 45% oltretutto della revenue ce l'hai già fuori ma poi ci sono gli ads ma poi ci sono i costi fissi prima o dopo pagherete degli stipendi fissi o comunque avete collaborazioni ma anche con liberi professionisti non per forza sono assunti direttamente ma non c'entra ma avrete uno zoccolo duro di costi che vi escono comunque anche perché dopo un po' la revenue comunque entra e di rifo o di raffa il sistema gira quindi c'è gente che magari senza fare un cazzo puoi guadagnare un sacco di soldi nessuna azienda seria si può permettere di dare delle percentuali così alte ma tu hai il 10 il 5 il 3 oh dopo un po' tu hai il 30 40% fuori ma il 30 40% tu te lo togli dal netto in realtà invece no ma io lo prendo da loro sì certo ma tu hai anche gli altri costi che ti diminuiscono il profitto e poi ti ritrovi magari a fare il 15 il 20 il 30% di margine che un imprenditore nel campo tradizionale direbbe beh a vergine no nelle informazioni invece sono margine basso se permette ok quindi avrete costi avrete avrete staff ragazzi ok dovrete fare sperimenti sperimenti che magari non vanno bene fate degli ads non funzionano spegnete i funnel eccetera dovete cominciare a provare con un po' più soldi se cominciate ad avere paura ragazzi di fare delle campagne spendere qualche migliaia di euro per vedere se funzionano è difficile poi andare avanti anche perché poi diventa difficile imbroccare cosa funziona se non fate varie prove come fate a imbroccare cosa funziona solito le persone risolvono questo problema copiando oppure persone più intelligenti formandosi beh io non faccio sperimenti vengo da te ti pago però almeno imbrocco subito quello che funziona va benissimo anche lì informazione ragazzi se voi pensate di poter andare avanti a vendere informazioni ma fare qualunque cosa senza formarvi costantemente ragazzi quando fate il primo lancettino e un giochino quando ne fate un mestiere dovete tenervi aggiornati su cosa succede a livello di marketing dovete capire cosa state facendo trovate delle gare avrete dei dubbi le persone che fanno più soldi con le informazioni in ogni mercato vi posso assicurare che sono le persone che spendono di più informazioni non c'è dubbio il pattern è chiaro ora questa cosa voi non avete difficoltà a capirla perché alcune delle informazioni delle persone sono anche molto visibili sono per esempio i nostri studenti eccetera quindi la correlazione vi è chiara ma tanta gente anche che non vedete ragazzi cioè lì non è più un giochino non è ma ho comprato il corsettino a 300 ma sì ho fatto il mio profanellino i primi risultati lì ragazzi dovete andare di consulenze private dovete costantemente cioè non è un gioco dovete avere consulenti di business marketing dovete chiedere quindi un po' di budget per la formazione ogni mese ok perché avete di più da perdere quindi un'altra criticità è che si parte semplici poi si finisce complesse anche perché c'è questa criticità vorrei chiarirla voi partite facendo la vostra professione di professionista che spiega quelle informazioni vi è chiaro? quindi siete un fitness coach voi non capite niente di business ma voi siete molto bravi ad allenare la gente no? solito parte così uno lavora un po' in palestra poi allena qualche il suo amico dice cazzo i risultati ci sono era anche un bel figlio sono bravo effettivamente posso impattare aspetta un'altra mi crea un business online giustissimo giusti fitness si presta questa cosa qua lo posso fare da dovunque nel mondo aspetta che faccio un pacchetto di tre mesi dove ti faccio la scheda e ti seguo per tre mesi su telegram no me li metto tutti su telegram do le schede faccio un po' di coaching così magari registro anche qualche video e glielo passo che parte del pacchetto glielo vendo a 700 euro avete già il vostro giro di clientela magari avete già un profilo instagram così fate il lancio porca troia big 50 persone 35k piuttosto che ok ci capiamo ok e quindi siete ancora esperti di fitness ma poi dal fitness state diventando imprenditori liberi professionisti ok siete in un altro gioco che è il gioco non di essere bravi nel fitness quello che è ma di arricchirvi di fare soldi vendendo cose di fitness online che è un'altra roba è un'altra professionalità e io non capisco perché tutti pensano di poterla fare senza studiare questa è una roba che boh cioè io non penserei mai di poter diventare un esperto di fitness e intendermene veramente di quale lamento fare di come si fa una dieta di come si gestisce il corpo di una persona a livello fisico senza studiare tanto studiare applicare e rivolgermi agli esperti del settore la prima volta che ho iniziato a fare palestra mi sono iscritto in una palestra c'era un esperto e mi ha fatto lui la scheda e mi ha spiegato mi spiegava come funzionava e non lo sapevo io cioè mi sembra un romano allora la scheda è questa tu vuoi fare massa benissimo devi sapere che la massa funziona così 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 devi mangiare così 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 se mangi in un altro modo si metti su massa ma ingrassi anche poi è difficile toglierla secondo gli obiettivi che gli ho detto ovviamente poi riguarda il fisico tu hai una carenza in questi muscoli qua allora la scheda te la do così poi mi ha spiegato l'esecuzione perché non è che devi mi diceva spostare i pesi ma devi sollevare i pesi con i muscoli che è un altro discorso interessante non lo sapevo poi mi è stato ok cioè mi sembra una roba abbastanza normale la stessa cosa ragazzi è nella vendita di informazioni e gli infobusiness ripeto io non capisco dove sia la controversia su questo argomento qua non riesco veramente a capire lasciate perdere perché tu difendi porti acqua al tuo mulino sì ma non capisco proprio il piglio di chi invece non lo capisce cioè un fisico che insegna all'università porta acqua al suo mulino dicendoti che la fisica si studia professionalmente da fonti autorevoli con corsi seri con cose non per forza all'università ma ci capiamo cioè c'è uno studio che deve essere fatto porta acqua al suo mulino sì ma c'è anche ragione non lo so uno che insegna medicina all'università e ti insegna e ti dice che devi studiare medicina all'università è vero che porta acqua al suo mulino ma mente non lo so ok comunque quindi costi e questo è anche uno dei motivi per cui dovete essere subito attenti e imparare subito come ottenere la massima monetizzazione ragazzi è un fatto serio non è solo un fatto di avidità le persone mi parlano di longevità ragazzi mi parlate di aria fritta se non sapete monetizzare spremere bene e ottenere la massima monetizzazione e non vendere dieci volte sotto prezzo quando partite ragazzi molte volte vendete sotto prezzo questo è meno vero adesso rispetto al 2018 il 2018 ragazzi io ho creato una rivoluzione spiegandovi che eravate sotto prezzo di dieci volte voi sapete che cazzo differenza c'è tra vendere un corso a 100 euro venderlo a 1000 e vendere le stesse unità perché la gente ve lo comprava lo stesso e minchia sono dieci volte i soldi e dici poco e non è solo un fatto di me li metto in tasca anche se permetti ma è un fatto di sono più profittevole quindi posso creare un'azienda più seria perché perché mentre prima magari vende è uno stereotipo uso il modello 2018 prima vendevo 5 corse a 100 euro facevo 500 euro al giorno certo però dicevo sì dovrei magari prendere uno all'ufficio dovrei prestare più attenzione eccetera però sono comunque stretto adesso se ne fai 5000 puoi dire aspetta assumo dual customer service due venditori do più valore ai miei studenti non per niente le persone a volte ci provano quello un po' anti guru eccetera a far figurare e se ci pensate è oscemo che loro sono più seri dei guru perché vendendo a un prezzo inferiore e essendo più piccoli allora sono più professionali perché non siamo mica i guru che spremono che fanno e no signori se voi guadagnate poco avete pochi soldi che vi girano non potete creare un'infrastruttura credibile perché non avete i soldi per farlo sorry costa vendo corsi a 100 euro vendo corsi a 300 euro mi cago addosso e vendo il nuovo corso a 300 euro ma chi l'ha comprato ti lo do gratis perché non vorrei dicesse che sono Marchettaro e da dove verrebbe fuori questa azienda seria strutturata professionale eccetera no per chiedere ok sono uno youtuber e vendo corsi a 197 ah vai diretto acquisto e chi compra te ne dimentichi altrimenti sei in perdita perché semplicemente non puoi avere quella potenza e dire aspetta creiamo come con SPR uno dei nostri percorsi di bandiera scopri ricchi creiamo effettivamente una piattaforma creiamo una piattaforma proprietaria per esempio no con i corsi a 200 euro siamo qui che aspettiamo di vederle non voglio provocare però vi sto solo facendo capire ok ho un sistema di coaching live continuo di tutoring di gente che sta dietro veramente i clienti ragazzi non che dite che gli stanno dietro non gli stanno dietro create un sistema di tutor e coach non avendo i margini create un customer service 24 ore su 24 non avendo i margini abbiate delle garanzie 100% che se uno non piace gli date il rimborso non avendo i margini non si può ragazzi cioè lo dice la matematica quindi anche lì uscite da certe stronzate quando passate e siccome molti passano in realtà da essere youtuber da essere influencer da essere cioè ragazzi come nascono le informazioni c'è un discorso una è una maestra di biologia ha letto tanto di biologia ha i titoli per insegnare la biologia è brava le riesce bene gli studenti a scuola le fanno i complimenti e sta dietro a questa cosa perché le piace magari ha fatto già qualche intervento qualche conferenza scrive su qualche forum poi comincia a dire aspetta un attimo io insegno a 20 studenti di giorno ma io vedo che ci sono questi che fanno le robe online non è ancora un'idea chiara del marcio però potrei venderlo online magari registro delle cose all'inizio uno non capisce gli stanno scrivendo i libri ma faccio dei contenuti corsi boh magari è un po' di seguito produci già contenuti ormai non è niente di strano ragazzi che un professionista di qualcosa ormai è sdoganata la cosa abbia anche i suoi canali online no? che ad oggi un divulgatore uno che divulghi la materia apre il suo canale YouTube per esempio quindi abbia un seguito che potrebbe essere monetizzato non è niente di strano nel 2018 era strano ricordare ragazzi che YouTube nel 2018 io cominciavo a caricare i video sì c'erano già gli YouTuber i content creator per l'amor del cielo ma a livello professionale di gente che non ha per lavorare per monetizzarlo con l'infobusiness non è che ce ne fosse molto io vorrei riportarvi quindi dopo un po' diciamo vabbè crea dei pacchetti vende online e quindi uno parte con le migliori intenzioni essendo bravo in quello che fa ma che non è il vendere i corsi che è il contenuto dei corsi stessi dovete capire ragazzi che il fatto che voi siete bravi nella vostra materia non vuol dire che voi poi sappiate come si vendono questi corsi o che prezzi fare o come monetizzare questo vi deve essere insegnato così come avete imparato in questo esempio la biologia sembra di dire veramente delle cose che abbiano senso ok? qui ce lo costi quarto ignorando le quattro criticità da me preventivamente esposte no anzi quarto longevità e tempi è un fatto appurato e assolutamente accertato che non è poco comune non voglio dire che sia la regola ma capita e nel momento in cui voi soprattutto se avete già un audience quindi è già monetizzabile e non è che chi ha l'audience più grande monetizza di più questo è un altro fatto acclarato ma aiuta a avere già persone che subito comprano il vostro prodotto poi vi mettete giù fate due funnel due cose ma cominciate un attimo in pratichirvi di due nozioni di online marketing magari siete in un mercato facile con poca competizione dove la gente era lì a aspettare è abbastanza semplice signori passare da zero a cifre importanti cioè nel lavoro ragazzi voi non potete passare da guadagnare 1500 euro a guadagnare 20.000 euro al mese non si può fare cioè se uno è un impiegato ragazzi magari gli danno l'aumento ma ci capiamo persone che lavoravano normalmente poi hanno lanciato due cose sono a 20k al mese pieno in realtà è la maggior parte cazzo mi esploso tra le mani tra mesi sono a 20k al mese sono a 8k al mese sono a 50k al mese ok quindi avere diciamo un'esplosione che non è progressiva ma è esponenziale se non esposiva ok e quindi non è poco comune ritrovarsi velocemente a fare cifre importanti cifre già che dovrebbero essere trattate con un rispetto quindi ok aspetta fino all'altro ieri io insegnavo che cazzo ne so sì fisica non so insegnavo la chitarra insegnavo metodi di apprendimento insegnavo inglese insegnavo francese insegnavo ma anche il business e il marketing e gli investimenti stessi voglio dire e sì ero bravo per carità ma guadagnavo poco adesso ho iniziato a fare sta roba online ho messo qualche link ho visto che c'è da fare fanno l'ho preso un po' di traffico ho mandato le offerte con l'email marketing e ci parlo all'inizio ripeto inizio uno ha un'idea molto non riesce a mettere insieme i pezzi quindi va un po' per aria adesso mi stanno arrivando 28k al mese la decisione a questo punto dovrebbe dire aspetta un attimo non sto più giocando sto cominciando a fare business ma come si fa business sto facendo un po' di marketing ma aspetta fammi imparare di più e lì uno si deve formare molto per non perdere quello che ha non commettere errori e gli errori sono di perdita perdita nel senso proprio di andare giù di revenue cioè adesso faccio 28 ma se non comincio a capire come stabilizzare e scalare sta cosa siccome non capisco come ci sono arrivato a 28 perché è stato culo vado giù e anche il non fare cioè continuo a farne 28 ma non ne faccio 50 ok e quindi molto facile ritrovarsi velocemente a fare numeri importanti ma durano molto poco e durano molto poco ragazzi sono molte le meteore nell'infobusiness meteore anche che hanno guadagnato ragazzi negli anni una cifra di soldi assurda cioè io ho avuto casi di persone che facevano dei numeri mensili ragazzi legittimamente non scammando cioè vendevano corsi la gente era contenta che facevano numeri ragazzi veramente importanti cioè che si sono trovati a fare 150 200 250.000 netti al mese anche lì si può fare poi però alcuni diciamo mi hanno ascoltato e mi hanno detto aspetta che non è più giochina sul td adesso dobbiamo fare le robe serie professionali quando si parla di fare le cose in modo professionale ragazzi non è più registriamo i corsi in modo professionale non è più io insegno professionalmente e ho la giacca e cravata quello ok no no e siamo professionisti nel vendere queste informazioni non stiamo più giocando ok un conto è tiro due calci alla partita della domenica con gli amici un conto è mi hanno preso nel Milan cioè sono due livelli diversi vedete conto di questa cosa vedete che vorrei non so perché c'è fatica ad accettare questa roba qui boh non so ok alcuni l'hanno fatto alcuni no ragazzi hanno avuto cali del 90% se non gente che non c'è più meteore poi c'è la criticità che non si mettono dei soldi perché appunto non capendo quello che fanno seguono consigli imprenditoriali di chi non è un imprenditore ma non essendo neanche loro non lo capiscono quindi reinvestono fanno compere pazze folli eccetera poi si ritrovano a zero quasi ok quindi è molto facile andare su ma come siete andati su se non capite che cazzo state facendo se non capite anche le criticità e se non capite come trattare un infobusiness riandrete giù altrettanto velocemente non solo perché andate giù velocemente primo vi rifiuterete per vostri paradigmi limitanti di fare ciò che è richiesto fare per fare soldi con le informazioni per esempio continuare a vendere le persone di media odiano vendere quindi già partite che magari eravate insegnanti così che ripeto un insegnante si vergogna dei soldi di vendere non è il suo è bravo nella materia ma non nel vendere informazioni allora vi convincete dopo un po' a fare un corso un percorso un qualcosa vabbè magari gli piace magari no all'inizio non credete neanche che qualcuno ve lo compre quindi tra virgolette vi impegnate tantissimo di solito se lo compano mamma mia mi vedono deve essere perfetto guardate che le informazioni partono così si parte veramente con le migliori intenzioni di qualità questa cosa che uno parte con la volontà di truffare la gente informazione ragazzi sono stronzate non è così ma poi mettete il link fate il patreon mettete il link su youtube insomma bam vendete ma poi per continuare dovete continuare a vendere dovete promuovere dopo un po' quel corso non ve lo comprano più anche se volete vendere lo stesso ma lo dovete promuovere lo dovete fare gli azioni quindi tra virgolette si vedrà che lo volete vendere quindi all'inizio era oh ragazzi mi seguite tutti da un po' sui social mettiamo che abbiate già un seguito social niente di strano al giorno d'oggi perché siete dei bravi divulgatori di psicologia noi abbiamo per esempio molti studenti nel campo della psicologia perché? perché sono quelli più incazzati perché giustamente sono delle persone che sono utilissime hanno delle competenze che ti possono veramente salvare la vita ed è un campo ancora oggi sottovalutato aspetto psicologico ancora oggi c'è un stigma sulla psicologia hanno dei prezzi imposti dal mercato in realtà imposti dai loro stessi limiti oltretutto è brutto perché sono psicologi ma hanno dei limiti psicologici quindi non la digeriscono però se ne accorgono devo dire la verità i prezzi imposti uno potrebbe dire no big faccio il prezzo che voglio ma non è vero se chiedete più di x vi sentite male di solito sono o 60 o 80 euro per i più bravi è seduta non si capisce chi abbia deciso questi prezzi ma siete tutti dentro questi prezzi qui semplicemente la realtà questi sono i prezzi autoimposti delle industrie nessuno capisce il perché quindi per uscire già vi sentite sporchi poi avete già problemi con i clienti che avete adesso già fa fatica a darmi 60 come faccio a chiedere di più perché non capite bene come si fa allora avete seguito la prima volta è una prova mettete magari il link a un corso ve la sto facendo breve come partono molti comprano ok ma voi non volevate vendere avete fatto una prova avete detto vabbè vi ho dato tanto contenuto gratuito per chi vuole approfondire questo è il link quindi dalla vostra prospettiva l'han digerita ma adesso invece cazzo se continuo si vede che voglio vendere non è più un ah by the way adesso è un creare dei processi dove si vende e quindi le persone non lo vogliono fare si rifiutano perché non si sono tolti i famosi paradigmi negativi perché Big Luca parla di mindset riprogrammazione mentale e la gente o non ci crede cioè mindset oppure dice beh si ha ragione ma non è vero che lavora sulla propria mente infatti in tutti i nostri percorsi c'è una grossissima siamo conosciuti per questo componente di mindset da noi divulgata e introdotta nel 2018 adesso per esempio in realtà alcuni concetti li stanno sdoganando anche professionisti riprogrammazione mentale e paradigmi è una parola che adesso si sente in realtà è lo status quo adesso mi fa piacere aver contribuito poi io ho contribuito ma chiaramente sempre un fuffaro rimango quello di Dubai dice un po' di 6-7 anni merda ok scusate se a volte mi concedo di dire a tutti la verità così archive.org sono le parole date dietro perfetto quindi però non è vero che la gente ci lavora oppure iniziano a vendere corsi capita persone ma tu quanti corsi sul marketing hai fatto no ho preso un corsettino ma non mi ha convinto oppure sì l'ho fatto fine quindi non si sono formati quindi non si rifiutano di vendere poi hanno vergogna a vendere alle persone che hanno già comprato perché mi hanno già dato fiducia non posso vendere di più se no si capisce che voglio vendere sempre che poi lo faccio per soldi certo che lo fai per soldi ma perché gli devi dare le robe gratis quindi si cominciano a rifiutare di voler fare queste cose qua non studiano marketing non riprogrammano la loro mente per capire che va benissimo quello che vogliono fare e non va bene che gli altri invece vogliono le cose gratis non delegano perché sono dei bravi psicologi che hanno fatto il corso quello che è non capiscono niente di imprenditoria e quindi non delegano perché non sanno neanche cosa dovrebbero delegare e non hanno abbastanza soldi per pagarsi la delega perché non sanno il marketing perché si vende rumo poi si stanchano di produrre contenuti perché comincia a essere un lavoro dove più un divertimento quindi dopo un po' spariscono altra criticità delle informazioni altre cose da non fare non date troppo per troppo poco pesate molto bene quanto volete dare per quanto e date il meno possibile per il prezzo più alto possibile ora uno dirà no ma Big non è etico è molto etico non vi sto dicendo ragazzi truffate la gente al contrario il corso il percorso quello che è deve essere assolutamente buono ma eccedere non serve anche perché dovete pesare bene quante ore avete in voi di contenuto che potete produrre per poi venderlo ok già spiegato nel mitologico corso infomarketing per babbuini 2020 chi c'era sa sapete quanto è frustrante dire le cose anni e poi dopo anni doverle ridire la gente ti dice ah sì avevi ragione la gente pensa che mi piace in realtà no è da imbecilli compravi prima risolvevi prima te l'ho detto quattro anni fa grandi 4 anni fa ok quindi spieghiamo questa cosa caldo che fai avrei bisogno di bere non riportarmi la bottiglia d'acqua però è vero anche che diceva c'erano 23 gradi ma percepiti sono sicuramente di più date il meno possibile per il prezzo più alto possibile quello che voi considerate essere la base o essere banale e quindi va bene solo questo non glielo posso vendere ora potreste avere troppo poco c'è gente che effettivamente ha delle cose contenutistiche di merda e cerca di venderle a un prezzo che è assurdo ma quello che voi considerate essere la base per chi non sa la vostra materia o per chi non sa quello che voi fate è già straordinario metterci di più non serve in casina di più e soprattutto non lo potete vendere dopo come supplemento e se fate questo errore abbastanza volte ragazzi andate in bancarotta perché c'è un limite alla quantità di informazioni che potete vendere perché non avete in voi una conoscenza infinita ok quindi vi faccio un esempio online marketing per mentecatti punto uno sei ore di corso ok registrato con una videocamera erano altri tempi per carità poi io ho anche un'attitudine che si può permettere di fare certe cose registrato con una videocamera ragazzi anche buona in realtà era un'ottima videocamera ma non la so usare un po' in controluce un po' così sulla lavagnetta vestito con la maglietta audio si sentiva per carità si può sempre migliorare era una qualità audio video sicuramente per i pezzi fatti con la lavagnetta e poi c'aveva il pezzo fatto dentro il computer con quick time quindi quello andava benissimo perché è registrato con la stessa qualità del Mac però tra virgolette sei ore un po' di parte tecnica io lì cosa ho insegnato a mettere insieme parti che le persone già sapevano per fare soldi tra virgolette per me era molto banale no? ho insegnato un po' il mindset la riprogrammazione queste cose qua l'ho lanciato a 1200 cioè ai tempi ragazzi era inconcepibile quel corso ha stravolto la vita di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone e migliaia e migliaia e migliaia di persone poi ho lanciato online marketing per Mentecatti 2.0 fatto veramente appuntino a modino con le slide con tutta una serie dove ho spiegato benissimo solo il modulo sulla riprogrammazione mentale durava 6 ore quindi il primo corso parlava dell'online marketing di un po' della componente mentale la parte tecnica diciamo di tutto quello che serviva per iniziare ancora un ottimo corso in 6 ore e la gente con quel corso da 6 ore ha avuto risultati strabilianti ha potuto finalmente prendere quello che faceva quello che aveva e monetizzarlo il corso ha creato l'industria che vedete adesso scusate un momento di vanto di orgoglio personale bene fast forward due anni dopo esattamente due anni dopo online marketing per Mentecatti due anni dopo sì sì Mentecatti marzo 2018 Mentecatti 2 gennaio 2020 diciamo due anni bene il corso durava in tutto a 40 ore ok e solo la parte di mindset che era veramente ottima che è veramente ottima ancora acquistabile il corso e chi vuole comprare online marketing per Mentecatti ovviamente come parte poi di un percorso che abbia anche delle consulenze in SPR mettetevi in contatto con i nostri venditori vi spiegano però sono ancora corsi che sono fruibili ed è bene comprare tutti e tre in realtà e vedrete anche perché è interessante studiare anche il come li abbiamo strutturati online marketing per Mentecatti 2.0 40 ore solo la parte di mindset bellissima veramente 6 ore cioè per farvi capire ok ora ha venduto molto molto bene ma se devo guardare le vendite rispetto all'uno sì abbiamo fatto un lancio effettivamente da 860.000 questi sono i nostri numeri un lancio 15 giorni il papi sono io vi ricordate ragazzi tutto bello eccetera però col senno di poi avrei potuto dare molto meno avrei potuto mettere una parte di mindset un po' più corta il resto lo davo per un supplemento ho lanciato tutto a 1200 quindi lo stesso prezzo di quello di prima avendo 6-7 volte i contenuti e molta più qualità e in termini di informazioni perché ce ne erano di più e di più belle e in termini di presentazione ovviamente era molto più strutturato più organizzato eccetera ho fatto molta più fatica perché per me non so mi ero fatto le slide da solo per il mindset perché certe cose le devo fare io mettere in slide quello che penso cosa che è stata molto apprezzata però la parte di mindset di online marketing per mettecati 2.0 è diventata qualcosa di mitologico con tutti i paradigmi come cambiarli il paradigma preciso il controparadigma c'è del lavoro ragazzi e ho lanciato tutto a 1200 avrei potuto fare i b offer ok la gente sicuramente non si sarebbe lamentata non si sarebbe lamentata la gente 1200 15 ore e poi potevamo fare un supplemento avremmo potuto tenerlo per un lancio dopo è solo un esempio siamo orgogliosi di aver fatto quello che abbiamo fatto però per voi è sempre meglio che noi vi diamo più roba per meno prezzo in realtà questo non è neanche vero è meglio al momento ma in realtà questo instilla in voi il fatto che le informazioni anche di valore dovrebbero essere gratis quasi ok e questa cosa non va bene ma tra virgolette avremmo potuto dividerlo in tre poi l'abbiamo fatto in seguito in realtà perché è giusto così perché poi conviene sempre comprare a lancio poi le cose diventano più costose però ok questo è quanto le cose si sono modificate ma col senno di poi vi dico cosa che hanno fatto anche i miei studenti eccetera piano con quanto contenuto gli date non serve dargliene troppo in realtà è una cosa data dall'insicurezza la mia non lo è stata la mia era va bene però molti di voi hanno questo problema in realtà non avete neanche a cuore i risultati degli studenti alcuni si ed è una cosa da togliersi perché non potete aiutarli tutti ci sarà ragazzi chi consuma le informazioni non applica mettetevela via ok io ho avuto dei corsi che hanno veramente cambiato la storia eccetera e abbiamo ricevuto pochissime lamentele ma qualcuno c'è stata ma roba banale e poi è gente che ha magari risultati peggiori anzi senza magari voi trovatemi uno che abbia veramente dei risultati di punta che dica le informazioni del big non funzionano non lo possono dire anche perché sono nei database abbiamo già visto che provare a fare certe cose è per certi versi periglioso ok quindi capite no c'è anche chi abbiamo dato i tempi un percentuale di rimborsi veramente bassissime ah sapevo già tutto per me è un corso banale gli dici ma scusami un attimo perdonami questo corso ha per tu stessa missione perché l'hai comprato vedendo i risultati fatto diventare milionari delle persone ha creato una rivoluzione c'è gente che tessa le lode di questo corso com'è possibile che tu che fai un quinto degli altri hai ritenuto le cose banali guardate il salto logico non ti sembra il logico quindi c'è gente che non può essere aiutata o magari non poteva essere aiutata in quel momento no gente che magari aspetta parlo di me ma capiamo avete un sacco di testimonianze siete bravissimi ci sarà gente a cui non piacete gente che comunque si ostina ancora dopo anni a dire che ma ah sì ma cosa quindi se avete a cuore i risultati degli studenti sappiate che ci sono persone che non applicano persone che hanno comprato i nostri percorsi contento hanno applicato fino a un certo punto poi hanno modificato scusami ma io ti ho detto di fare questa cosa ah no però stavo pronto guarda che sbagliato ma io mi sento di far così ok vai quindi non tutti applicheranno e quindi dategli il giusto perché il corso sia buono cioè chiedetevi quello che gli sto chiedendo se applicato gli impatta positivamente la vita gli lo fa studiare meglio gli fa raggiungere gli esami gli fa imparare l'inglese gli fa imparare lo spagnolo gli fa imparare a programmare lo aiuta a dimagrire gli fa venire gli addomini eccetera sì sarebbe meglio però anche un po' di coaching ok a parte perché ci sarà ragazzi chi capitato a noi con le informazioni gratuite noi riceviamo costantemente feedback di persone bastardi peraltro infingardi che dicono da te non ho mai comprato niente solo con i tuoi video di youtube ne abbiamo 2000 solo con i tuoi i vostri chiaramente poi anche quelli dei miei staff video gratuiti e strategici e tecnici e sui soldi e il mindset e il marketing e le informazioni e le cose io ho fatto un sacco di soldi grazie c'è anche chi mi capita negli anni poi mi compra il corso per ringraziarmi e poi vedi che non lo fa per esempio big non ripeto all'azienda non è che sono in contatto diretto però gente che viene in consulenza mi capita consulenza privata che sono già milionari big grazie delle tue informazioni gratuite ottime oppure hanno comprato un corso ottimo poi siamo andati avanti da soli però adesso siamo venuti in consulenza per ringraziarti per fare una cosa più seria un check bellissimo quindi gratis ho con un corso ok perché sono persone intelligenti che hanno applicato e si sono messe giù e poi ci sono persone ragazzi che non gli affanno che non gli affanno perciò quando voi insegnate informazioni avrete persone che applicano e avrete persone che nonostante quello che gli mettete dentro non applicheranno non solo più gli mettete dentro più loro se lo aspettano più sono ingrati più avranno la scusa che non ci riescono perché dicono beh ascolta non solo ho comprato il corso ma il corso aveva anche i tutor le coaching ma ha dato 20 ore di contenuto se non ci riesco vuol dire proprio che le tue informazioni non vanno bene a volte accuseranno loro stessi diranno non ci arrivo e tu sarai frustrato perché dirai ma no ma guarda che ci può arrivare non hai applicato non hai capito è sbagliato cazzo non hai applicato quello che ti ho detto frustrazione in più non stai guadagnando in più ce l'hai tra i coglioni tra le email che ti manda le email e paghi un customer service per qualcuno che non monetizzi ok? non funziona non funziona ok? quindi poche cose fatte bene ragazzi aggiungere ore non serve potresti avere troppo poco e non misuratele in termini di qualità audio video che deve essere buona per carità fatela in termini di ore ci deve essere un po' di ciccia ragazzi in termini di impatto questa è anche un'altra cosa le informazioni funzionano sono belle? sono buone? non perché sono belle da vedere non perché sono carine da sentire ma perché funzionano ok? quindi se funzionano non dategli troppo per noi voglio dilungare troppo per troppo poco il resto fateglielo pagare di solito date tre volte le informazioni che dovreste dare e ve le fate pagare un terzo questo è il rapporto che ho visto infatti non c'è da stupirsi se poi quando si lavora con Big Luca si fanno i per 4 i per 5 i per 6 i per 10 spieghiamo anche questa cosa molte volte uno dei problemi è questo Big Do tre mesi di coaching corsi 100 ore situazioni che mi sono capitate allora io gli apro circa 100 ore di corsi sono 10 da 10 ore l'uno su 10 argomenti diversi complementari ok fammi vedere i corsi belli filmati in studio ok tu sei un esperto in quello che si guarda quanti risultati testimoniano quindi qua gli spiego tutto così qua gli spiego poi li metto dentro in un sistema di coaching poi possono scrivermi quando vogliono e tutto questo per 1000 euro eh ragazzi non ci potete stare dentro come fate a seguire i nuovi clienti se avete quelli vecchi tra i coglioni che vi pagano poco ah notizia dell'ultima ora ti fa queste cose è frustrato modello malattia perché perché tu mi paghi oggi tra due o tre mesi i soldi saranno stati spesi e dimenticati e io ti devo offrire assistenza è bene che uno venga pagato tanto per un tempo ragionevole poi se vuoi mi ripaghi chiaro ragazzi non date troppo per troppo poco e non forzateli nelle coaching nelle consulenze mi è capitata questa situazione ma io li voglio far applicare non voglio applicare loro vogliono prendere le cose e non le applicano chi sei tu per costringerli ma così non ottengono risultati non tutti vogliono i risultati ragazzi c'è anche gente che compra per comprare per avere una scusa perché hanno l'acquisto compulsivo perché tutti stanno comprando e comprano anche loro per moda per appartenenza perché comprano oggi e poi il corso il percorso lo faranno tra due anni perché intanto l'hanno comprato questo che capita per esempio noi la gente intanto mette in saccocce i contenuti e poi magari dopo un po' specie in una piattaforma insomma in un percorso come SPR che ha continue live di interazione dico intanto io ho i contenuti e poi avrò questa interazione qui e avrò le consulenze ma le faccio dopo occhio anche a strutturarvi bene da non vendere adesso e poi saltano fuori tra due anni che vogliono le coaching e voi ve li eravate dimenticati eccetera eccetera ultimo state molto attenti alla parte economica perché viste tutte queste cose che non sapete e che magari non avete voglia di applicare ah una cosa queste cose che vi ho detto sono così non ascoltate nessuno che vi dice che non lo sono tutti i professionisti della vendita di informazioni c'è gente che questa roba ci lucra ci lucra da anni e lucrare è un termine giusto voi lucrate le informazioni io vi lucro i soldi questo è lo scambio ragazzi è veramente uno dei business più banali di questa terra non so perché certe persone si ostinano a vederci delle dietrologie che non ci sono quindi sono tutte criticità note ce ne sono molte altre questa è la realtà dei business di informazioni non funziona in nessun altro modo ok e soprattutto una cosa che vorrei dire perché c'è un trend assolutamente preoccupante che vi fa capire che le persone non hanno capito quello che io ho detto in questo video ed è il trend degli antiguru cioè ad oggi è in allarmante espansione per allarmante ragazzi parlo anche di situazioni a mio io non sono poi arriveranno arriverà chi di dovere magari negli anni non lo so ma io credo siano malattie perché a un certo qual punto si passa dalla satira alla malattia però in allarmante aumento tutto ha un inizio tutto ha una fine quindi c'è problema l'aumento di persone che dicono ok va bene ma io tutte queste robe non le so fare non le faccio allora aspetta che ho un'idea più nella mia industria ma anche in altre devo dire per quello che dico che è allarmante e allora non sapendo fare niente cioè formazioni non le sanno vendere non sanno fare niente business non l'hanno mai studiato marketing non lo studiano gestione finanziaria non la sanno perché non hanno soldi né arte né parte però dicono hey ho avuto un'idea you're a you had an idea e se io facessi l'antiguru adesso c'è un'esplosione di gente che pensa di poter vendere ragazzi veramente fermateli io vi voglio bene state buoni con le mani fermi con le mani ok you just had a moment avete avuto il vostro ok avete avuto molte buone idee sicuramente nella vostra vita questa non è una di quelle che tentano di vendere i loro percorsi di cose che non sanno fare quindi poi non glieli comprano o non funzionano parlando male dei guru che cos'è questo? non c'è te perde la parte emotiva siamo professionisti questo è il modello io non so fare marketing ma faccio le foto da Lamborghini è la stessa cosa a marketing non lo so fare minima idea di come si monetizzi minima idea di come si facciano soldi non so vendere non so fare un cazzo però hey aspetta se mi faccio la foto la Lamborghini a Dubai siccome c'è gente che con la Lamborghini a Dubai fa soldi allora farò anch'io soldi sì il problema è che persone che hanno fatto soldi avevano anche la Lamborghini penso di poterlo dire abbastanza liberamente perché alcuni sono notoriamente pubblicamente e correntemente i miei studenti non facevano soldi ragazzi perché avevano la Lamborghini cioè forse non avete bene in te anche lì c'è un po' di più facevano soldi perché sapevano come monetizzare anche la Lamborghini chi prova a fare l'antiguru e fa la stessa cosa io non capisco un cazzo però aspetta che si apra un canale YouTube e parlo male di Big Luke allora no allora una minchia signore la cosa può tirare a livello di visualizzazioni perché chiaramente prendersela con qualcuno di famoso in vista tira sempre perché la gente no quando c'è da da dare addosso a qualcuno eh sì ma dare addosso a qualcuno gratis perché nessuno paga per il gossip signori non so se vi siete accorti di questa cosa guardate che non funziona adesso c'è un'esplosione un'esplosione e tutti poi vai a vedere provano a proporti il loro corso la loro membership sono tutti sono tutti fuffaguru ma io no allora ragazzi questo è un metodo che è stato allora diciamo invece io mi sono lanciato dicendo che i pochi operatori che c'erano non capivano un cazzo ma c'era un problema primo era vero secondo io avevo delle reali soluzioni che sono state provate e verificate e replicate quindi non è un dubbio cioè io posso dirvi che ancora ad oggi a livello di strategia di marketing siamo messi male ma ho gli argomenti per dirlo e se vieni da me posso farti vedere i risultati migliori non è solo un bla 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 ok primo secondo questa storia di dar contro adesso vai vai ai fuffaguru Dubai è una tattica che è stata provata e testata ed è per quello che vi dico che non funziona e raccomandata da me ok quindi sappiate che l'origine di quella roba sono io perché parlando con alcuni studenti ho detto proviamo ok proviamola non funziona era abbastanza ovvio che non funzionasse ma ci poteva stare mi ha fatto la prova ok cioè le persone che danno contro Dubai dio mio alcuni youtuber se ne sono accorti infatti si sono perché poi cosa succede uno alla prova uno copia l'altro eccetera e si pensa che siccome tutti lo facciano funzioni no non funziona gli anti-guru non guadagnano più dei guru ragazzi la dovete finire è già molto difficile per le criticità da me esposte essere un guru figuratevi essere un anti non può funzionare fate quello che volete semplicemente non va ragazzi non ci sono soldi in quella roba lì le persone vi daranno il loro supporto il loro like ma soldi niente perché è ovvio ok quindi non tentate di hackerare il processo ok lasciate perdere pensate alle vostre cose pensate non a criticare chi è bravo anche se vedete magari qualcuno che è bravo nella vostra industria andategli a chiedere come ha fatto no non cercate di lanciarvi in altri modi non cercate di vendere informazioni in altri modi per vendere informazioni ragazzi ci vuole bisogna essere competenti nell'online marketing l'online marketing si studia da big luca non ne uscite non uscirete da questa roba nessuno ne è mai uscito ci sono zero evidenze pro e solo evidenze contrarie ah scusate altra criticità che vi volevo dire poi devo bere bere acqua e non alcol una delle cose che potete fare un pochino di soldini un pochino di soldini pochi senza diciamo essere un personaggio ma il fare tanti soldi è indissolubilmente nell'industria delle informazioni legate al personaggio cioè se non siete personaggi non vendete tante informazioni questo è un problema perché a un certo punto vi stuferete di essere personaggi a un certo punto non ci avrete più voglia di fare i video a un certo punto dite minchia che due coglioni e vi attaccano e vi insultano e vi diffamano e la gente non è abituata perché anche lì pensate di essere uno che fino al giorno prima era uno che faceva l'impiegato e aveva semplicemente una competenza anche molto sviluppata ma non aveva visibilità e non lo conosceva nessuno e sto sempre qui chiamino avanti niente perché c'è l'ombra spero si capisca oh la macchinina per farmi riaccompagnare è solo che non posso filmare vabbè e adesso magari siete online vi insultano vi guardano cioè ma cazzo io non sono abituato quindi è inestrinsicabile dal personaggio è molto difficile potete farlo se vendete un metodo ok se vendete un metodo che sia effettivamente fattibile e dove comprano il metodo ma non chi lo vende allora potete farlo ma se quello che fate ha una grande componente intuitiva oppure siete nell'industria come lo sono io del dipende qual è la strategia di marketing dipende ragazzi ok quindi c'è un studio che quindi dipende anche dalla intelligenza di chi te lo insegna e da quanti casi studio criticità e cose ti può dire uno dell'insegnamento per non parlare del livello consulenziale a cui dopo un po' si arriva nella mia industria oppure siete quello che che dite e anche il come lo dite cioè ci sono voi potete spiegare il marketing domani ma non essendo un metodo replicabile ma essendo una strategia che va interiorizzata magari siete pallosi mentre lo fate una delle cose che le persone dicono big io sono innamorato dei tuoi video dei tuoi corsi io mi faccio anche le risate figo come insegno perciò è molto difficile togliere il personaggio questa cosa dopo un po' stufa ok e poi eravamo scusate la criticità dei soldi non capendo niente di tutto questo in più non monetizzando non capite neanche che si debba risparmiare perciò non vi costruite neanche un patrimonio che è un'altra cosa nella quale entrate senza saperlo quindi voi avete delle competenze iniziate a insegnare e vi dovreste accumulare competenze imprenditoriali di marketing eccetera ma non lo fate non tutti e ci sono molti che lo fanno io parlo di chi non ci riesce e non ci riuscirà mai adesso sto monetizzando ma i corsi di marketing non li prendo perché quella roba lì quella roba lì è quella che stai facendo tu ma brutto ma ho comprato un corsetto ho letto un libro oh lascia perdere questi sono quelli che magari per ottenere una promozione si prendono la seconda laurea studiano tre anni ma quando gli passano per le mani 20-30 mila euro al mese ah no il corso da mille euro è troppo non lo prendo signori è già tardi eh su davvero sveglia a parte gli scherzi occhio c'è un'altra quindi diventate imprenditori ma non studiate marketing ma non studiate e poi dovreste anche costruirevi un patrimonio risparmiare eccetera quindi c'è anche l'aspetto finanziario quanto meno personale ma non lo sapete e magari tutte queste cose qui ve le chiedete tra di voi comunissimo nell'ambiente di youtuber nessuno capisce niente e si chiedono tra di loro come fare una cosa che nessuno di loro sa come fare ragazzi vedete voi fate voi fate voi quindi dopo aver generato qualche miliardo signori queste sono alcune delle criticità alcuni dei discorsi sulle informazioni se volete vendere informazioni seriamente se volete vi serve aiuto concreto ragazzi da chi è veramente capace gente che non le opinioni rivolgetevi alla Big Luca International la mia azienda di formazione troverete un link sotto qui contattateci iscriveteci e se volete iniziare e se avete già un business avviato ok signori iscrivetevi al canale lasciate un like io sono youtuber in realtà come animo ti voglio tanti iscritti buona giornata ciao